e adesso come sentito introduciamo la pagina sportiva introduciamo il nostro gradito ospite Melo Russo il tecnico esperto di queste questioni a lui chiediamo l'Umi su questo pareggio del Catania un uno a uno in casa contro il Matera un pareggio Melo che ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai tifosi presenti perché non è stato considerato un buon risultato anche se bisogna dirlo quelle davanti e cioè il Lecce e anche il Trapani che ha gli stessi punti del Catania non ne hanno approfittato quindi è un punto buono che ne pensi? C'è il rammarico anche perché sapevamo del risultato e che ci si aspettava una vittoria del Catania per poter risalire un po' un allungo e mangiare due punti alle concorrenti che partita è stata? Che partita hai visto? Ma non è stato il solito Catania il Catania è stato un po' confusionario non è stata sicuramente una delle giornate più prolifiche per il Catania anche perché l'avversario si è dimostrato abbastanza in campo è un avversario tosto un avversario che era ben messo in campo e che ha giocato un'ottima partita il Catania è un po' subito la pressione sulla trequarte di questa squadra che non faceva giocare i difensori come è abituato il Catania a girare palla e loro giocavano alti e quindi hanno studiato si vede bene impedivano la manovra il Catani e l'hanno un po' frenata per quello che è il gioco abituale del Catani e tutto sommato si è dimostrata una squadra importante il Matera lo sapevamo però la delusione c'è rimane perché tutti quanti aspettavamo già che sapevamo i risultati delle delle concorrenti sia del Trapani che del del Lecce pensavamo di accorciare di 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 un bagli punti invece siamo rimasti lì fermi perché loro hanno giocato fuori casa e Catania ha giocato in casa c'era molta gente e ripeto siccome non è stata la migliore partita del Catania c'è un po' di delusione lucarelli e anche nelle dichiarazioni del post partita sui giornali di oggi se la prende un po' con l'arbitraggio chiede direzioni arbitrali migliori se andiamo nel vittimismo e secondo me non 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 ci dà non ci dà molto credito perché le partite si vingono e si perdono e le Catania forse sì in qualche occasione non è stata molto aiutata si si presume che ci sia stato un calcio di rigore ma non è stato molto evidente a mio giudizio ma che poi a prescindere tutto il risultato visto le squadre in campo ci sta tutto da parte del materno non avrebbe meritato la sconfitta per quello che posso dire quindi comunque per te un risultato equo c'è anche un po' di paura per quanto riguarda cicciolodi che è uscito in barelle è andato in ospedale oggi per il fantasista che ha subito un colpo tra la schiena e il collo sono previsti controlli quindi speriamo tutto bene ma io penso sia una cosa di routine nel gioco capita questo io me l'auguro perché l'odi sicuramente il punto di riferimento di questa squadra il leader ha fatto una grande partita altri un po' sotto tono siamo riusciti a pareggiare che poteva anche finire peggio e quindi tutto sommato dobbiamo accontentarsi di quello che abbiamo visto ieri a beneficio degli amici che ancora non conoscono il quadro completo diamo appunto i risultati in serie c girone c casertana bisceglie 0 a 1 catania matera abbiamo detto 1 a 1 cosenza batte francavilla 4 a 1 andrea rende 3 a 1 monopoli trapani 0 a 0 paganese lecce 1 a 1 fondi acragas 3 a 0 regina leonzio 0 3 siracusa juve stabbia 0 a 0 ha riposato il catanzaro abbiamo visto risultati tutto sommato positivi per le siciliane di questo parleremo tra poco con melorusso per approfondire questi temi e parlare soprattutto di questo esploat della leonzio che ritorna alla vittoria importante e pesante perché sono tre punti davvero preziosi intanto rimanete con noi spazio alla regia